e buongiorno benvenuti al geobreak io sono leonardo gonfiantini sono lavoro agiterdo ormai un annetto sono principalmente un programmatore sto continuando la magistrale e quindi se dirò qualcosa di sbagliato riguardo gnss gps siete pure liberi di di insultarmi o correggermi magari poi nei commenti successivamente e oggi appunto volevo presentare paigps client ora condividerò lo schermo ecco qua ho preparato delle pochissime slide semplicemente perché poi andremo quasi subito alla demo dove secondo me è molto più cioè si spiega da solo sostanzialmente il software ed è molto più facile capirne anche il funzionamento allora innanzitutto cos'è andremo a vedere cos'è paigps client qualche utilizzo del software e poi appunto la demo finale a innanzitutto paigps client è un progetto open source ed è un software multipiattaforma questo significa che possiamo installarlo su praticamente qualsiasi dispositivo quindi su windows mac os linux e anche raspberry os e e questo è il motivo principale per il quale ho scoperto questo questo software proprio perché avevo bisogno di modificare delle configurazioni per esempio per un ricevitore ublox e non avevo a disposizione un pc windows e quindi appunto ho dovuto arrangiarmi in questa maniera qua è una piattaforma di diagnostica gnss gps quindi si utilizza principalmente per testare il funzionamento si può anche ovviamente utilizzare per posizionarsi ma è diciamo molto sconsigliato è interessante appunto il fatto che si possono configurare ricevitori ublox tramite paigps client e senza per forza utilizzare per esempio l'ublox center che almeno per quanto riguarda la mia esperienza sono solo riuscito ad installarlo su sistemi operativi windows o a volte sono riuscito ad agirare il problema scaricando cioè scaricando facendo il setup di una macchina virtuale windows per esempio su un pc linux e poi tramite essa mappare le varie porte e quindi poi andare a modificare il ricevitore ublox tramite la macchina virtuale non sempre questo è possibile per esempio nel caso noi avessimo appunto un raspberry come detto prima difficilmente raspberry a meno che appunto non vengono fatte le giuste modifiche riesce a reggere una macchina virtuale windows quindi bisogna trovare un altro metodo si possono anche lanciare direttamente ci sono diverse librerie per modificare gli ublox direttamente da un livello di configurazione e lanciare poi un codice python qua abbiamo anche un'interfaccia grafica quindi tendenzialmente è un po più comodo ecco è scritto completamente in python con tk inter questo anche il motivo per il quale è multi piattaforma tk inter perché non conoscesse la libreria standard per fare interfaccia gratificare in python e questo può essere un pro nel caso appunto uno volesse andare ad analizzare il codice il codice python abbastanza conosciuto per essere più leggibile e si è scritto bene e quindi questo è sicuramente una nota a favore supporta diversi tipi di protocolli per esempio appunto questi sono qui che supporta ubix rt cm3 nmn trip e lo spartan che è un protocollo che io assolutamente non conosco e può fare anche da ntrip cluster questo credo sia molto interessante nel senso che ovviamente solo con ricevitori compatibili per esempio lo zf 9p della ublox è uno di questi e questo può essere interessante nel caso magari uno volesse creare appunto una stazione ntrip cioè appunto portarsi dietro una stazione ntrip mobile facile da montare tutto si può fare con questo con questo software utilizzi poi gps client come detto prima principalmente per il test dei ricevitori quindi tramite esso possiamo vedere i diversi messaggi ubix nmea controllare si possono anche utilizzare questo software per controllare il funzionamento di stazione ntrip per esempio per nella demo proveremo a collegarci alla stazione digitare che mi hanno detto che forse potrebbe avere dei problemi non legati proprio alla stazione ma da rtk2go che è il servizio alla quale ci appoggiamo per appunto fornire il nostro servizio quindi diciamo che proveremo a collegarci a gtr prima ho visto che funzionava però potrebbe non funzionare più principalmente si può utilizzare per configurare un ricevitore ublox appunto senza dover per forza utilizzare ublox center anche se vedremo che comunque sia l'ublox center non so per chi conosce magari questo software è un po più esplicativo soprattutto nei nei parametri di configurazione quelli diciamo un po più specifici ecco e poi appunto creare una base ntrip momentanea con questo intendo più che momentane intendo mobile mobile e momentanea in nel senso che facendo vari setup noi possiamo per esempio avere un raspberry con un ricevitore un'antenna che fa la stazione ntrip posizionarla da qualche parte e poi farci il nostro rover sempre con un raspberry ntrip utilizzare in entrambi i casi pi gps client ovviamente poi bisogna setupare diverse bisogna fare diversi setup per la connessione eccetera in modo tale che le due i due raspberry si connettano però comunque si può fare ed è interessante e si può si può anche da questa immagine qua ora in questo caso io non lo farò vedere nella demo perché appunto come poi spiegherò serve un api url che io non ho però si possono anche vedere file gpx quindi vedere i percorsi direttamente da questa piattaforma l'elevazione eccetera quindi direi di passare alla demo qua ho già preparato il appunto poi gps client aperto appena aperto si presenta in questa maniera qua a destra abbiamo i ricevitori che per esempio sono collegate la serial port già li riconosce per esempio in questo momento al pc ho collegato un zf 9p della ublox con un'antenna fuori ed è collegato tramite usb infatti lo riconosce tti acm 0 noi ci possiamo collegare tramite l'utilizzo appunto di questo pulsante usb possiamo collegarci anche per esempio a un ricevitore se ovviamente si è fatto giusto setup e si è fornito il servizio tramite tcp udp in questo caso i parametri da inserire sono qua sotto quindi qua abbiamo un server l'indirizzo ip la porta il tipo di protocollo possiamo anche caricare un file per esempio un file punto bx e poi punto analizzarlo qua ora in questo caso noi ci dobbiamo collegare alla usb ecco qua cosa vediamo appena ci colleghiamo qua parte diciamo dall'alto al basso vediamo il tempo latitudine e longitudine altitudine velocità altri parametri qua sotto abbiamo una console dei messaggi che stanno arrivando al nostro ricevitore in questo caso appunto messaggi nmea e ubix cioè sono i messaggi che restituisce in output il nostro ricevitore mentre qua sotto abbiamo diversi moduli allora pay gps client ha la possibilità di aggiungere altri moduli come vedremo qua da view poi li vedremo tutti partendo da questo questa è la mappa dell'elevazione con i vari posizionamenti dei satelliti qua abbiamo sempre i diversi satelliti che stiamo ricevendo con il loro valore di snr e qua una mappa appunto come stavo spiegando prima questa è la mappa standard che trova un po' l'utilità che trova nel senso che qua forse riusciamo a capire che siamo in italia ecco in realtà pay gps client permette appunto di inserire un ap url di map quest ma questo è un servizio gratis che da tile gratis fino a un certo punto nel senso gratis fino a 15 mila tile e appunto fornisce dei tile per le mappe io in questo caso non l'ho configurata nel caso tutti i parametri di configurazione bisogna aggiungerli appunto facendo load configuration ed è un file json come ci dice qua quindi bisogna preparare un file json comunque scritto tutto nella documentazione e si può appunto setupare pay gps client se io avessi utilizzato appunto questa mappa io poi la posso cambiare qua da map type qua in questo caso abbiamo word possiamo mettere mappa ma appunto come vedete mi chiede la la p url di map quest qua abbiamo anche la satellitare ma penso sia uguale è quasi il mondo ora abbiamo diversi moduli per esempio in questo momento noi stiamo vedendo questi qua quindi console satellite quindi possiamo anche togliere la console qua possiamo vedere lo spettrogramma il monitor del sistema questo caso il ricevitore e poi abbiamo punto lo scatterplot della posizione qua possiamo aumentare e diminuire la posizione ovviamente l'antenna è ferma quindi diciamo che per cinque metri riusciamo ad avere una posizione precisa più andiamo avanti ecco vediamo che si muove bene ora li rimuovo volendo si può fare direttamente reset layout questo è layout standard la console forse è l'aspetto un po' più interessante ci permette appunto di vedere i vari messaggi che escono fuori dal ricevitore possiamo andare a filtrare i protocolli per esempio nel caso io volessi vedere solamente gli anemia ecco qua che gli ubix non li vediamo più nel caso appunto volessi vedere solamente ubix ecco qua che appunto spuntando questa casella togliendo l'anemia vediamo solamente il record dell ubix ci sono anche diverse cose che si possono fare dalla console in questo caso i messaggi sono sono passati quindi possiamo anche renderli solamente in binario esadecimale tabolare ci sono diversi formati che si possono fare un aspetto negativo che ho trovato è che non si possono salvare questi messaggi qua cioè nel senso non è che questo output me lo salva in qualche file l'unico modo purtroppo è quello di stoppare tutto selezionare copiare incollare magari un altro non è proprio la soluzione migliore però magari se qualcuno dovesse analizzare proprio questi questi record qua è l'unica soluzione che almeno al momento ho trovato poi potrei sbagliarmi possiamo vedere i satelliti che usiamo che non utilizziamo per esempio spuntando questo come vedete i grafici si sono ridotti questo perché tutti i satelliti col mi sembra snr minore di 10 vengono appunto tagliati fuori e quello che dicevo prima come ntrip caster si può spuntare da qua qua bisogna selezionare la modalità per esempio seleziono la modalità ntrip caster una volta che seleziono questo appare questa icona questo vuol dire che il nostro appunto il nostro ricevitore adesso sta facendo ntrip caster ora anche qua bisogna setupare i vari i vari parametri la file di riconfigurazione quello json visto prima e il default dovrebbe girare sulla 0.00 21 01 infatti se io provo a fare così vediamo che in pending qua come vediamo clients è diventato 1 ovviamente non mi sta dando nessun parametro perché questo è un protocollo http però comunque sta cercando di connettersi all'ntrip ecco qua vediamo il client uguale a 1 se io lo tolgo i clients diventano uguali a 0 bene quindi ora possiamo vedere innanzitutto il collegamento alla stazione ntrip che magari è quello che ci può interessare di più quindi cliccando su ntrip client si apre questa schermata magari vado a ridurla così qua dobbiamo inserire il server per esempio in questo caso la stazione di gter come detto prima si appoggia al servizio rtk2 quindi io semplicemente scrivendo rtk2.com mettiamo caso che io non conosco il manpoint che in questo caso è gter se io vado ad eseguire mi va a cercare la source table ok bene direi che funziona la stazione gter infatti come vedete lui automaticamente va a cercarmi la stazione ntrip più vicina in questo caso appunto è quella di gter nel caso io volessi utilizzare un'altra stazione avendo fatto appunto la ricerca della source table prima possiamo vederlo da questa lista in questo caso beh noi vogliamo utilizzare quella di gter mettiamo qua che lo user mettiamo un email qualsiasi in realtà sarebbe meglio utilizzare un email vera anche qua una password qualsiasi appunto perché è un servizio aperto se io appunto inizio qua si è connesso alla stazione e come vediamo in teoria dovremo iniziare a ricevere dei messaggi rtcm se tutto è andato bene quindi se io per esempio tolgo questo non stiamo ricevendo dei rtcm questo potrebbe essere il motivo per il quale la stazione digitale non funzionava ecco probabilmente per quello comunque sia vediamo che qua si è apparsa un'altra icona e questo significa che siamo collegati alla stazione ora volevo far vedere i file i file scusate i messaggi rtcm per esempio prova a collegarmi a questa che è sicuramente una stazione sbagliata ecco come vedete qua c'ho i messaggi ntrip che stanno arrivando quella digitale dovrebbe funzionare vabbè questo ovviamente ha 9000 km di distanza non una base da utilizzare però comunque qua possiamo vedere i messaggi che stanno arrivando bene qua possiamo appunto anche inserire la latitudine e longitudine nella stazione l'intervallo eccetera si possono fare diverse configurazioni diciamo e questo appunto è un metodo per verificare che una stazione funzioni per esempio quella digitale in questo momento non funziona ora si può anche appunto collegarsi allo Spartan client io questo non so assolutamente come utilizzarlo non l'ho mai utilizzato non ho idea neanche di quale servizio utilizzare mentre appunto l'aspetto forse più interessante di PayGPS client è la configurazione dei Lubelix ok ora magari questo mi sposto qua che è un po' più grande ecco qua automaticamente il software ci riconosce che noi stiamo utilizzando un ZF9P i vari protocolli, il firmware si è aggiornato o meno il GPS che riceve, il software eccetera qua possiamo andare a modificare appunto tutti i parametri di configurazione qua ci sono già per esempio dei preset fatti per esempio accendere tutti gli NMA message magari quelli un po' più utili ecco qua abbiamo tutte le configurazioni un po' più specifiche che si possono andare a modificare a proprio piacimento un aspetto negativo che ritrovo un po' in PayGPS client è quello che non c'è una spiegazione infatti non so esattamente cosa sia CFGDAT per esempio non c'è una spiegazione esattamente di cosa va ad intaccare questo parametro mentre nell'Ublox center essendo magari un prodotto un po' più fatto specifico per gli Ublox c'è una breve descrizione di cosa si va a modificare comunque sia se uno va a cercare ZF9P CFGDAT trova esattamente cosa sta andando a toccare ecco si possono anche modificare qua si può prendere anche il Valgate 7DEL questi sono classici dell'Ublox center per fare un punto diamo una rapida demo di questa cosa qua per esempio io voglio modificare i protocolli che vengono dati in output da ricevitore in questo caso io sono collegato alla USB quindi qua dovrò andare a selezionare ecco qua la porta USB in questo caso sono tutti accesi infatti se noi qua vediamo NMEAUBX stiamo ricevendo tutto nel caso io volessi togliere per esempio UBX mando il cambio della configurazione a ricevitore che non ha cambiato ma infatti qua lo vedo ancora in pending ah no perché è in output ok niente giuro che funzionava proviamo a farlo con l'NMEAU no allora aspetta proviamo a riaprirlo no ma non lo prende neanche perfetto non lo prende proviamo a fare così proviamo a togliere e riaprire per GPS client ci ricolleghiamo riapriamo le configurazioni ora mi trova queste mi dà sempre in pending quindi penso ci sia un problema con il ricevitore in questo momento infatti qua non mi riconosce neanche però nel caso io facessi così dovrebbe salvarlo non lo fa posso provare a staccare un attimo questa è l'ultima chance ma fidatevi che funziona ok ci ricolleghiamo qua abbiamo tutti i vari messaggi si sta ricevendo anche pochissimi satelliti ma in questo momento quindi se io per esempio ritorno qua vado nella usb e dico non voglio più l'ubix ecco qua che non abbiamo più l'ubix ok mentre voglio l'ubix non voglio l'nma guardate che i protocolli qua sono tutti attivi invio la configurazione ecco qua che abbiamo solamente l'ubix se io volessi andare a salvare i configurazioni proprio nella memoria nella memoria non volatile devo andare appunto come si fa un po' nell'ublock center a lanciare questa configurazione qua in questo caso io non voglio farlo e ci sono diverse cose si possono appunto farlo ritornare ai dati di fabbrica principalmente queste forse sono quelle un po' più comode un'altra cosa molto comoda di questo di pay gps client è proprio il fatto che si possono salvare in modo abbastanza comodo le configurazioni quindi per esempio se io volessi anche solamente registrare quello che sto andando a fare per le modifiche lo posso fare se io volessi andare a salvare in questo caso non lo fa perché non ho praticamente cambiato nulla si può fare si può andare qua a salvare qua si possono caricare invece quindi appunto una volta che ho salvato una configurazione la posso caricare e setappare per esempio quel ricevitore con quelle specifiche configurazioni lì e niente direi che è tutto per quanto riguarda questo e niente direi che ho finito se per qualsiasi domanda qualsiasi cosa anche nei commenti quando questa questo Joy Break verrà caricato su su YouTube io sono disponibile sempre a a rispondere grazie a tutti